Musica Domani confronto della maggioranza regionale sul referendum per cambiare la legge elettorale proposto dalla Lega. L'Aula torna a riunirsi mercoledì 25. Assemblea oggi alla Flex dopo i 23 licenziamenti. I sindacati percorreranno le vie tradizionali per risolvere la crisi, ma forse non basterà. Una condanna a 20 anni di carcere per i due accusati del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino ferito a febbraio a Roma e la richiesta del PM. È in gran parte di sollievo dalla relazione dei triestini alla riapertura di via San Michele al traffico, ma da oggi tre giorni di lavoro in via Madonna del Mare. Le istituzioni si parlano e collaborano, per questo Trieste sta ripartendo l'analisi del rettore di Lenarda sulle prospettive della città. Presentata l'iniziativa della ONLUS Mediolanum con l'associazione ABC Burlo per le famiglie che seguono i percorsi chirurgici di 200 bambini. Dopo la terza sconfitta consecutiva per la triestina, l'allenatore Massimo Pavanelli è stato esonerato e già scatta il toto sostituto. Buonasera dal telegiornale di Telequattro. Dunque alla ripresa dei lavori, mercoledì 25 settembre il Consiglio regionale dovrà affrontare anche la proposta della Lega per cambiare la legge elettorale nazionale. Un progetto che gli alleati di Forza Italia non vedono di buon occhio, ma il governatore Fedriga oggi a margine di una conferenza stampa ha aperto al confronto nella maggioranza. Vediamo. Io rispetto per tutte le componenti di maggioranza, c'era una discussione con tutte le componenti di maggioranza e ovviamente la Lega porterà le sue ragioni. Così il governatore Massimiliano Fedriga sul referendum proposto dalla Lega per cambiare la legge elettorale in senso maggioritario. Un progetto che non incontra il favore degli alleati di Forza Italia, ma prima della ripresa dei lavori del Consiglio regionale, mercoledì 25, ci sarà tempo domani per un confronto tra le forze di maggioranza. Avremo oltretutto una riunione di maggioranza nella giornata di domani, cercheremo un attimo di capire le diverse posizioni. Io credo che sia utile non permettere all'attuale maggioranza a livello nazionale di andare verso un proporzionale pura. La prima riunione che hanno fatto non è su come si aiutano le famiglie, come si aiutano le imprese, come si aiutano i lavoratori, ma è come cambiamo la legge elettorale per cercare di avere più posti possibili. Fedriga sostiene con convinzione il progetto di eliminare la parte proporzionale dell'attuale legge elettorale. Posso esserci diverse ipotesi, io spero che tutti vogliano che la campagna elettorale serva a far scegliere i cittadini e non a prendere in giro i cittadini. E quindi mi auguro che tutti capiscano che verso un proporzionale puro si fa un danno non alla Lega, ma ai cittadini italiani e anche del Frivense Giulia. Dunque le valutazioni le farò quando avrò una posizione da parte di tutte le forze politiche, Lega compresa. E naturalmente c'è spazio anche per una critica all'attuale governo nazionale, definito il governo delle tasse. A me piacerebbe che probabilmente chi sta a Roma nel PD 5 Stelle non si rende conto per esempio dei collegamenti dal Frivense Giulia. Qualcuno ci spiegassero come arrivare per esempio a Roma, magari a Milano in tempi ragionevoli. Facciano la TAV come ho chiesto. I 5 Stelle dicono sia la TAV così non serviranno le ari, si arriverà velocemente a Milano, a Roma, dappertutto. Ma non è che possono dire no a la TAV, no a questo, no a quell'altro, tasse sugli aeri e dopo come ci muoviamo? Col carretto? Voltiamo pagina, rabbia e amarezza fra i lavoratori della Flex dopo i 23 licenziamenti decisi dall'azienda. I sindacati tenteranno ora le strade tradizionali coinvolgendo il Ministero dello Sviluppo Economico, ma potrebbero esserci anche iniziative per coinvolgere maggiormente la città. Sentiamo Umberto Bosazzi. Non possiamo accettare una politica per la quale a un minimo soffio di vento del mercato negativo le persone vadano a casa. C'è preoccupazione e una rabbia contenuta di cui al momento i sindacati si fanno portavoce fra i lavoratori della Flex, riunitisi in assemblea questo pomeriggio. All'origine di una situazione sull'orlo di esplodere, la mancata diversificazione del sito. Il sito dipende quasi esclusivamente dalle commesse di Nokia, oggi c'è una contrazione di Nokia e gli effetti immediati sono che 23 lavoratori con il contratto in somministrazione vanno a casa alla fine di questo mese. Quello che è più preoccupante è che il scenario che ci aspetta anche per il prossimo trimestre non è sicuramente migliore di quello che si chiude. I lavoratori si sentono, e lo dicono senza problemi, quasi presi in giro e comunque vedono sottostimata e di parecchio la propria professionalità. Questa azienda ha trovato una situazione in cui eravamo un centro di eccellenza, altissima professionalità e attualmente continuiamo ad esserlo perché comunque abbiamo diversi lavoratori che vengono mandati al centro di ricerca e sviluppo della Nokia, a Norimberga, quindi riusciamo a creare tutta un pre-serie di prodotti che poi purtroppo a questo punto vengono spediti in paesi a sottocosto lasciando a casa persone qui in Italia. Al momento la strada da percorrere resta quella come dire tradizionale in casi come questo, ma non è detto che i lavoratori si accontentino. Quello che quindi vogliamo è portare l'azienda in un confronto istituzionale, Regione e Ministero dello Sviluppo Economico, affinché vengano ripresi in mano gli accordi sottoscritti a suo tempo e cercare lo spazio di sottoscrivere un nuovo accordo che garantisca l'impegno industriale e occupazionale di Flex sul sito di Trieste. Vista anche la situazione a Trieste in generale non si può non valutare qualcosa da fare, ad esempio mettere in campo delle proteste, farci sentire a livello mediatico ed è fondamentale anche che tutta la città sia dalla nostra parte. Il bilancio delle iniziative della Giunta regionale a favore delle famiglie è stato tracciato questa mattina dal Presidente Fedriga. Vediamo quali i risultati. Riportare la proporzione tra contributi erogati e cittadini stranieri presenti in Friuli Venezia Giulia è solo uno degli obiettivi raggiunti, secondo il Presidente regionale Fedriga, dagli interventi messi in campo dalla Regione a favore delle famiglie. Il bilancio è stato presentato stamattina nella sede della Giunta con l'assessore all'istruzione Rosolaine. Il numero di domande ai fondi regionali è passato da 2.673 dell'anno scorso a 3.775 del 2019-2020. Il 94,5% del contributo, ha spiegato Fedriga, ha raggiunto famiglie italiane. Abbiamo incrementato notevolmente tre volte rispetto agli anni passati i propri contributi per gli asili nido, arrivando a 22 milioni di euro. Oltretutto con le misure che abbiamo messo in campo siamo riusciti a ricreare un equilibrio tra popolazione italiana e straniera. Non a caso per il contributo al primo figlio arriviamo quasi al 95% di italiani che accedono al contributo e per quanto riguarda dal secondo figlio in poi quasi all'89%. Quindi un risultato molto importante che crea equità sociale nella nostra Regione. Ma gli aiuti economici non bastano, serve anche un processo culturale che coniughi tempi del lavoro a quelli della famiglia. In questo senso Fedriga ha annunciato che il prossimo anno arriverà nell'Aula del Consiglio regionale la nuova legge quadro sulla famiglia. Torniamo alla vicenda del nuotatore triestino ferito a Roma, il nuotatore Manuel Bortuzzo. Una condanna a 20 anni di carcere per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano e la richiesta del PM Elena Neri contro i due accusati del tentato omicidio premeditato, aggravato dagli abietti e futili motivi di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore triestino appunto raggiunto da un colpo di pistola al fianco la notte tra il 2 e il 3 febbraio in piazza Eschilo a Roma e della sua fidanzata Martina Rossi. Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano, dall'ora è costretto sulla sedia rotelle. Marinelli e Bazzano in carcere dal 6 febbraio dopo l'arresto avevano ammesso di aver sparato ma di aver colpito il ragazzo per errore. Via San Michele è nuovamente percorribile dai veicoli, ristabilito quindi il traffico cittadino in un'arteria che collega San Vito al centro città e alle rive. Sentiamo Gianluca Palladini. Io non abito lì, pertanto comunque era confusione. C'era confusione? Per la questione anche del traffico eccetera, ma a me personalmente non interessava. Via San Michele è stata riaperta ai veicoli dopo oltre tre mesi. Via vai di macchine il traffico riprende come una volta per il sollievo di tantissimi automobilisti e lavoratori che hanno subito dei disagi per le deviazioni obbligatorie e la durata dei lavori. La pavimentazione è stata sistemata e ora è di nuovo garantita la viabilità per un'arteria cittadina che collega comodamente, assicurando un veloce percorso, la zona di San Vito con il centro cittadino. E come dunque non andare a chiedere direttamente alle persone che passavano di lì che cosa ne pensano? Dopo che ho capito io, quelle che stanno nella via erano contente, però giustamente quelle che passavano erano scontenti. Io abito su dalla parte di via Tilo e quindi per andare a casa con la macchina devo per forza entrare qua in via San Michele. Tre mesi di chiusura totale praticamente in pratica sì, quindi per andare a tornare da casa con la macchina devo andare in marina oppure se venivo da su dove andare comunque oltre il col di San Vito. Personalmente no perché non vuole la macchina, però a chi ce l'ha anche in casa sì. Fare tutto il giro del mondo per arrivare in marina e voglia. Per me egoisticamente era molto bello senza le macchine. Ma almeno se io sono unico però perché è un... Comunque è l'unica strada che ti porta direttamente in marina. Eh sì. Tu puoi da San Giacomo e... Bisogna fare il giro. E lei cosa ne pensa? La frequentava la via San Michele eh? Quando ero giovane avevo tutto avanti e indegno. Una cosa indegna come è abbandonato, come viene tante cose, le case sono con tutta ricoperta di mede e verdure che non si sa chi le fa, chi non le fa, chi le mette a poco. No, non c'è uno spazzino, non c'è nessuno che pulisce, che rende piacevole come era una volta. E continuiamo con la cronaca con altre notizie raccolte in sintesi nel prossimo servizio. Un'auto è andata distrutta in un incendio per cause che non sono state ancora accertate. È avvenuto la notte scorsa intorno a mezzanotte in un parcheggio interrato di uno stabile Ater in via Valmaura. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra partita dalla sede centrale e una con l'autobot del comando provinciale. In pochi minuti hanno spento l'incendio che non ha coinvolto persone e non ha causato ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti anche polizia e personale del 118. Incidente in largo barriera, feriti padre e figlio. In seguito a un tamponamento che avrebbe coinvolto due auto e uno scooter, due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Si tratta di padre e figlio diretti alla scuola di quest'ultimo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto alle 7.55 e ha provocato grossi disagi al traffico con lunghe code fino a viale d'annunzio. Rallentamenti fin dal mattino. Oggi sull'autostrada 4 a causa di due lievi incidenti senza conseguenze per le persone ma con mezzi pesanti coinvolti che hanno rallentato fortemente la circolazione. Il primo è accaduto verso le 7 del mattino fra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Il secondo incidente si è verificato verso le 8 nel tratto fra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza, sempre in direzione Venezia. Si è trattato di un tamponamento fra due camion. La cronaca afferra per il collo l'ex moglie davanti alla figlia, giovane romeno nei guai. L'apice di un escalation di condotte violente e minacciose viene definita così. La vicenda che ha visto protagonista un cittadino di origine romena è conclusosi due giorni fa con il conseguente divieto di avvicinamento all'ex moglie. Il giovane 36enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è finito nel mirino degli investigatori dopo aver aggredito la donna lo scorso 11 settembre. La scorsa settimana il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino ha analizzato il momento particolarmente positivo per la città. Il rettore dell'università è intervenuto sul tema durante una puntata di Trieste in diretta. Allora vi proponiamo un sunto del ragionamento del professor Roberto Di Lenarda. Vediamo. Io sono assolutamente convinto che il momento che sta vivendo Trieste sia foriero di grandi cose. Per condizioni di sistema, per potenzialità che si stanno concretizzando in questo momento e perché, come diceva lei, secondo me il clima è cambiato. Io vivo in questa città da metà degli anni Ottanta, quando mi sono trasferito per studiare. L'ho vista cambiare molto. In questi anni ha fatto un ulteriore importante salto di qualità. Le istituzioni hanno sviluppato una capacità di collaborazione che solo dieci anni fa ancora non c'era. Si può fare meglio, ovviamente, però lo dico soprattutto nell'ambito di quanto riguarda la mia attività accademica, ma anche la mia precedente attività nel mondo della sanità. Ci sono molto e meno polemiche di quanto ce ne sono in altre situazioni anche regionali. Le istituzioni si parlano, si collabora, si partecipa a progetti comuni. Si è capito, forse, spero, e anche se lo si è fatto solo perché si è convinti che serva, non importa. Va bene lo stesso, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Si è capito che fare sistema non deve essere uno slogan, ma deve essere la realtà. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Riprendiamo parlando del maltempo con gli aggiornamenti. Sono una quindicina gli interventi portati a termine oggi pomeriggio dalle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale a Trieste in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla città e sulle aree limitrofe. Le operazioni effettuate tra Sistiana e Trieste hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di abitazioni e negozi a causa di allagamenti per le piogge intense cadute in particolare nel primo pomeriggio. Anche diverse strade del centro città si sono allagate, come ad esempio via Mazzini. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di colore giallo fino alla mezzanotte di oggi per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense che stanno caratterizzando proprio queste ore. Quindi attenzione, abbondanti piogge temporali sono segnalati soprattutto nella nostra area, nell'area giuliana, a est e sulla costa. Presentata stamattina l'iniziativa della Onlus Mediolanum assieme all'associazione ABC Burlo per aiutare le famiglie che seguono i percorsi chirurgici di 200 bambini. Vediamo. Un posto dove ricostituire il proprio nido, dove potersi ricaricare, dove poter anche sfogare le proprie emozioni positive e negative assieme ai propri cari. Si chiama Come a casa, il programma di raccolta fondi avviato dalla fondazione Mediolanum Onlus. La donazione andrà a favore delle progettualità di ABC Burlo. In particolare verranno sostenuti 200 bambini che devono affrontare complessi percorsi chirurgici al Burlo Garofolo attraverso percorsi di accoglienza e ascolto. In particolare sarà garantito un'ospitalità gratuita alla famiglia del bambino nelle case dell'associazione. È nata proprio 15 anni fa ABC proprio con questo intento, quello di andare oltre la cura specifica ma di dare appunto cura che possa essere una cura anche a livello umano. Cosa c'è di più che se non poter offrire gratuitamente una casa dove poter stare all'interno del proprio nido anche durante momenti così difficili come quelli del ricovero. Interessante anche il meccanismo di raccolta fondi che sostiene la collaborazione sia a livello nazionale, Milano e Genova, le altre realtà cittadine, a Comunata Trieste in questo progetto, sia a livello territoriale. La fondazione Mediolanum ha chiesto alle associazioni di impegnarsi nella raccolta fondi in prima persona. La montare della cifra è stata raddoppiata dalla fondazione Mediolanum che ha raggiunto anche una quota extra. È una donazione per noi importante che ci sta molto a cuore perché abbiamo conosciuto ABC Burlo circa tre anni fa userei dire ed è una realtà che ci è piaciuta tantissimo perché abbiamo visto una grande passione, grande amore in ciò che viene fatto qui e anche però tanta professionalità perché ci sono psicologi, medici coinvolti, per cui ecco questa è una realtà che ci ha proprio colpito. Loro hanno fatto una piccola parte di raccolta fondi e noi abbiamo fatto tutto il resto e oggi sono qui, sono venuta a vedere con gli occhi direttamente questo bellissimo progetto. La notizia era nell'area da giorni ma l'ufficialità è arrivata questo pomeriggio. Massimo Pavanel non è più l'allenatore della Triestina. Sentiamo Bernardo Gulotta. Massimo Pavanel non è più l'allenatore della Triestina. Lo ha reso noto il club nel primo pomeriggio con un comunicato inviato alla stampa e pubblicato attraverso il proprio sito web. Che l'esonero fosse nell'area ormai si percepiva. Le sconfitte con Piacenza e Cesena avevano aperto la crisi in casa Rosso Labardata a causa di un rendimento che ha stupito tutto l'ambiente. Dopo la vittoria contro il Gubbio infatti sono arrivati un pareggio e con quella di ieri tre sconfitte di fila. Troppo poco per una Triestina costruita per stare nelle zone alte della classifica e riscattare l'epilogo dello scorso campionato con la B sfiorata e sfumata nella gara di playoff. Massimo Pavanel e l'allenatore in seconda Daniele Riganti non fanno più parte del progetto dell'Unione. All'oro recita il comunicato va il doveroso ringraziamento per l'impegno, la dedizione e la passione quotidiana messa a servizio della causa Labardata oltre più sincero e sentito in bocca al lupo per il proseguo della carriera professionale. Il pensiero è ribadito dall'amministratore unico della società Mauro Milanese. L'esonero non può che essere una scelta per me molto dolorosa per le capacità tecniche, l'importante spessore umano della persona e il legame con la città prima da giocatore e poi da allenatore. La nota chiude con la presa di tempo in attesa di scegliere la futura guida tecnica della prima squadra che nel frattempo è stata affidata all'allenatore della Beretti Nicola Principalli. Tutto ciò porta quindi al toto allenatore con i nomi di Bisoli, Pilon e Cosmi fra quelli maggiormente vociferati nell'ambiente in attesa che la società ufficializzi il nome di chi siederà in panchina ed avrà così il duro compito di rimettere in sesto il percorso della Triestina. A Massimo Pavanel la redazione di Telequattro augura un grosso in bocca al lupo per il suo futuro professionale, rimarcando nell'apprezzamento sia come uomo che come allenatore, sempre molto cordiale e disponibile con tutti i colleghi del mondo dell'informazione. Ed è profonda crisi per la Triestina che perde la terza partita consecutiva la seconda in trasferta. La situazione è molto difficile per i giuliani che sono stati contestati a fine gara. Vediamo il servizio. Solo sui Leven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. La mancata rimonta, la terza sconfitta consecutiva e il blackout per buona parte del primo tempo portano la Triestina a dover affrontare una crisi già aperta e ora ammalorata da prestazione e posizione in classifica. Il gol anche di progevole fattura di Marcandella per la Virtus Vecop quando siamo al decimo dall'avvio della gara incupisce gli sguardi del popolo rosso labbardato e trasferta a Verona complica e non poco l'umore dei giocatori ospiti che sanno di aver di fronte l'occasione del riscatto consci che ogni complicazione in questo momento pesa il doppio vedi la reazione di Mensa. 1-0 e palla al centro, punto da dove Matosvic vola ma siamo sulla linea di porta e non di centrocampo per evitare il raddoppio al quarto d'ora tentato su punizione da Manfrin con un sinistro insidioso. Altri 5 minuti e la frittata è fatta ma grazie a tutto il tempo di controllare poi girare in area una palla piovuta direttamente da fallo laterale l'angolo è azzeccato Matosvic non ci arriva il 2-0 è presto fatto la Tristina sa che non può restare a guardare per altri 70 minuti e reagisce Ferretti prova il colpo di testa puntando il secondo palo ma la palla sfila di poco bravo Mensa per l'assist dalla parte opposta con estremo cinismo arriva la palla del 3-0 Odogvul si inserisce bene trafigge Matosvic dopo la palla ben servita da Marcandella con l'umore sotto i tacchetti poi la terza rete è presa in mezz'ora l'unione è il dovere morale di crederci Ferretti scalda i uanti di Sibi su punizione Granoccio tiene un calcio di rigore per fallo di curto proprio ai suoi danni realizzando dagli 11 metri con un destro calciato basso nel secondo tempo subito movimento dove il portiere Matosvic è croce ed elizia dell'azione in quanto prima esce all'avventura allontanando la sfera dall'area poi recupera in tuffo un colpo a botta sicura verso la porta 56 sul cronometro e Paoligno impegna Sibi di destro subito dopo leggerezza dell'unione che rischia il poker Matosvic al sessantesimo si spinge molto fuori dall'area con un grosso rischio lasciando la porta scoperta ma a graziare Giuliani e la leggera imprecisione di Marcandella alla mezz'ora la sfida si riapre Costantino subisce un'evidente cintura a pochi metri dalla porta Granoccio è glaciale dal dischetto e realizza il 3-2 col piatto destro a mezz'altezza dopo essere stato costretto dall'arbitro a ripetere il tiro complice la presenza di un giocatore dentro i 16 metri al momento della battuta l'ultima immagine prima della fine è tutta nel contropiede della Virtus poi non ottimizzato dal 26 in maglia scura il finale è amaro per la tristina che viene contestata dal pubblico presente per il cammino da retrocessione svolto sin qui la cronaca della partita lascerà spazio ora alle decisioni societarie intanto mercoledì si torna in campo a Rocco arriverà l'Arzignano solo su 11 Sports la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend saranno i Big Data i protagonisti di Trieste Next 2019 il festival della scienza che avrà luogo dal 27 al 29 settembre tra Piazza Unità e altre location in vista di ESOF 2020 vediamo 50 appuntamenti e 500 relatori per Trieste Next in programma dal 27 al 29 settembre Big Data Deep Science è il titolo dell'edizione che farà da apripista a ESOF 2020 certamente anche quest'anno Next avrà un ricco programma e alcune novità a cominciare dalla Piazza Unità dove l'area Talk dove si svolgeranno tutti gli incontri i laboratori le iniziative oltre naturalmente ad altre sale c'è quest'area Talk che accoglierà gli ospiti nella serie di dibattiti che saranno circa una settantina quindi in tre giorni sarà veramente un ricco programma in più avremo a disposizione la nave Laura Bassi che è una nave rompighiaccio che sostituirà Explora la scienza è quella importante a Next Next che quest'anno accompagnerà l'evento principale del prossimo anno il grande evento ESOF 2020 Un momento importante per la divulgazione scientifica che ha l'avallo della Commissione Europea come punto di riferimento della ricerca e a tutti i presupposti per essere una vetrina dimostrando come lavora la ricerca all'insegna della trasparenza aperta a una platea variegata La scienza si mette in mostra in vetrina dico io ma non come semplice esposizione ma proprio in termini di trasparenza perché si dimostrerà cosa si fa e come la si fa Prevista la partecipazione di circa 600 studenti circa il doppio dell'edizione precedente l'inaugurazione avrà luogo venerdì 27 alle 11 in Piazza Unità I giovani che d'altra parte saranno anche protagonisti dell'inaugurazione di Next perché saranno in piazza con iniziative e laboratori dedicati esclusivamente a loro come ogni anno perché i giovani sono veramente i protagonisti di questo ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie a tutti per averci seguito e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.